La nostra economia ad un giro di boa, con la crescita del PIL che nel secondo trimestre del 2021 ha segnato un più 2,7%. Eppure a questa ripartenza continua a mancare un pezzo. Una partecipazione femminile più bilanciata nel mondo del lavoro racchiude un potenziale compreso tra 50 e 150 miliardi di euro in termini di PIL. Il tema quindi non è solo sociale, ma anche economico. Purtroppo, nonostante i riflettori accesi sulle tematiche di genere in seno al Women 20 e agli impegni collettivi dichiarati per ridurre il gender gap nel mondo del lavoro del 25% entro il 2025, l'Italia, secondo la classifica del Gender Gap Report 2021 del World Economic Forum, pur guadagnando 14 posizioni, rimane comunque al 62esimo posto su 156 economie nella corsa alla parità di genere. Nel nostro paese le imprese femminili superano il milione e 330 mila, pari al solo 21,97% del totale del tessuto produttivo nazionale. Numeri che raccontano di un paese che ha ancora molta strada da fare e che rischia di perdere competitività rispetto ai suoi PIB europei. La diversità e l'inclusione sociale sono da sempre valori cardine che guidano l'operato di SACE. Women in Export è il primo business network italiano in ambito export promosso da SACE Education, volto a promuovere l'empowerment femminile mediante il rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali in tema di leadership di impresa e internazionalizzazione. Con questa iniziativa SACE intende investire sull'enorme capitale intellettuale femminile che ruota attorno al nostro export, lanciando uno spazio di discussione, di progettualità in cui dare visibilità a modelli di business inclusivi in grado di valorizzare la gender equality e innescando un social impact nel panorama imprenditoriale italiano che si ripercuota anche nelle performance del nostro Made in Italy nel mondo. Metteremo a disposizione un luogo digitale in cui condividere buone prassi ed opportunità di peer education, rivolto a professioniste provenienti dal mondo delle imprese, delle istituzioni e dell'associazionismo. Vogliamo contribuire a creare un'industria più diversificata e inclusiva nel nostro paese, puntando sulla formazione manageriale e valorizzando le caratteristiche distintive della leadership al femminile. In un momento storico in cui il valore della competenza è motore per la ripartenza del nostro paese, occorre investire sull'upskilling e sul reskilling professionale, promuovendo uno stile di leadership più efficace ed incisivo tra le nostre exporters. Punteremo a creare connessioni di valore attraverso incontri, forum, live talk, eventi formativi e momenti di networking. Lanceremo un programma di mentoring per fornire utili strumenti di crescita manageriale, mettendo a disposizione anche l'enorme patrimonio informativo e conoscitivo di SACE. La nostra community sarà una finestra aperta su modelli di business del futuro attraverso le esperienze di chi sta contribuendo a costruirlo in chiave sostenibile e inclusiva.